we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi abbiamo come sempre un bel po di notizie per quello che riguarda il futuro di fortnite come sappiamo tutti stiamo in attesa della patch 14.10 anche perché oramai tutto quello che doveva essere scoperto è stato scoperto molto probabilmente si dice come avevo già anticipato che arriverà il 9 con un bel po di roba dentro tra cui forse i regali per il 26 settembre che è la data del compleanno del battle royale una di quelle cose che quest'anno a me non sono piaciute che non siano arrivate tutti gli altri anni arrivavano in estate sto giro no quindi nel video di oggi vedremo queste cose parleremo di wolverine vi faccio vedere dei video e della roba molto interessante prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è sempre lui ovviamente tony stark iron man chiamatelo un pochettino come vi pare che con la patch 14.10 comincerà a prendere una certa importanza nella season in corso mi spiego meglio ve lo ricordo l'autorità diventerà il laboratorio di stark in inglese sappiamo che si chiamerà starks lab quindi mi immagino che in italiano venga tradotto così vi ricordo che verrà modificata anche proprio la fisionomia dell'autorità e al suo interno troveremo dei forzieri speciali ma non solo ragazzi perché con iron man arriverà anche il veicolo più veloce del gioco e ho un'immagine davvero meravigliosa guardatelo qua sbada bam una lamborghini classica come siamo abituati a vederla che però classica in realtà non è i colori sono i suoi quello oro e quello giallo e quello rosso ha lettone dietro e anche le prestazioni sono notevoli la lamborghini più veloce nel gioco va a 90 all'ora miglia orari credo questa arriverà a 120 quindi veramente tanta roba non vedo l'ora di vederla perché ne esponerà una sola per partita e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vi dico spesso e volentieri per quanto riguarda la sezione giapponese cinese di fortnite loro praticamente nonostante sappiano come la sede europea e la sede americana le stesse cose se ne sbattono altamente e quindi pubblicano roba spoilerando a destra e a sinistra strafregandosene di tutto quello che invece cercano di fare le altre sedi per mantenere un po il segreto ed è proprio il caso di un post che hanno proprio pubblicato nelle ultime ore e che come vedete va a richiamare ovviamente i pesci non riusciamo ovviamente a tradurre ma possiamo guardare e cercare di capire dalle immagini c'è stato prima il tris di pesci classici poi come vedete arrivano quelli un po più speciali la medusa il pesce peperino lo flopper il pesce termico sino ad arrivare ad un'altra immagine quella della lista dei pesci no il nostro inventario ittico chiamiamolo così e ancora sotto un'immagine molto più carina perché ci dà delle informazioni in realtà ci dice semplicemente vari posti nella mappa permettono di pescare vari pesci ma la cosa che ovviamente ci interessa di più sbada bam è proprio questa la parte finale di questa lunghissima immagine che loro hanno caricato sul loro sito come vedete c'è la canna da pesca quella un pochettino più seria no la pro fishing road e sotto le due ombre dei pesci che stavamo aspettando il midas flopper e il vendetta flopper non sappiamo che cosa fa il vendetta sinceramente ma sappiamo che il midas flopper appena lo peschiamo e lo consumiamo trasforma tutto l'inventario che abbiamo in armi leggendarie la possibilità di pescare un midas flopper è veramente bassissima leggermente di più di un pesce mitico che in teoria dovrebbe ancora essere presente in game mentre come vi anticipavo il vendetta non sappiamo che cosa fa tra l'altro ragazzi vi ricordo anche che questa è la prima settimana dove inizia la fishing la gara di pesca no la fosca miseria non mi ricordo hashtag fishing mi sembra che l'ha andata a trovare ve ne avevo già parlato in un video di qualche giorno fa epic games ogni settimana chiede di pubblicare delle fotografie taggandoli con l'hashtag ovviamente cioè mettendo l'hashtag con il vostro pesce migliore di quelli che loro fanno vedere e questa è la settimana del flopper azzurro quindi quello che state vedendo nell'immagine molti hanno già pubblicato il più grosso che sono riusciti a trovare che è quello da 60 centimetri ma io vi consiglio di fare anche un piccolo video se volete provare a buttarvi anche voi in questa in questa sfida no i più belli i montaggi più belli le pescate più interessanti verranno poi pubblicate nelle pagine ufficiali di fortnite quindi tanta tanta roba e per terminare anzi non è proprio terminare vi faccio vedere tutto l'elenco completo come vedete c'è il primo che è mancante che credo sia a questo punto relativo o al midas flopper o al vendetta flopper mentre tutti gli altri sono già non credo che siano trovabili ancora tutti in mappa ma la maggior parte potrete trovarli tra l'altro arriva anche un immagine anzi uno spezzone video molto molto curioso io sinceramente non so dirvi se sia vero oppure no ma sembrerebbe essere un mix tra il pesce peperino l'op flopper e i paracadute come vedete cioè lui riesce a prendere una cavolo di spinta veramente notevole e sta praticamente volando loro lo chiamano dive glitch io sinceramente non so alla peggio provate a farlo vedete se vi succede prendete la corrente nel verso giusto dovete avere ingerito il peperino dovete avere anche l'op flopper e provate in velocità a prendere un paracadute vedete che cosa vi succede e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un'altra curiosità che forse non tutti sapevano soprattutto se state cercando di fare la gara di pesca vi potrebbe tornare utile uno dei potenziamenti del dottor doom è davvero fondamentale per scacciare gli squali che potrebbero darvi fastidio quando cercate di pescare il vostro pescione ed è proprio il caso di questo spezzone video che come vedete con la palla giga del dottor doom voi potete spararla violentemente contro lo squalo e lui se ne va bello fresco bello fresco per i fattacci suoi e non vi dà più fastidio quindi magari pensateci semplicemente una cosa divertente da vedere andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo sì che è un argomento davvero interessante fra 22 giorni sarà disponibile wolverine ci verrà data finalmente una delle skin più attese di questa season anche perché è la skin che richiede per avere lo stile olografico il livello più alto appunto per questo per questa stagione il livello 220 è veramente impegnativa da fare ma otterremo come vedete l'ultimo stile è wolverine holo tra l'altro volevo ancora farvi vedere uno spezzone di video molto curioso perché è stata trovata nei file di gioco l'animazione per la skin di wolverine meglio di così purtroppo non si vede ma eccola qua ragazzi come vedete lui nel suo balletto speciale quello appunto dedicato va in aria e poi come si era in realtà visto nel trailer apre le braccia e arriva al suolo davvero una cosa molto carina non vedo l'ora di poter giocare nei panni di wolverine e arriviamo velocemente ragazzi all'ultimo all'ultimo come si dice argomento di oggi scusate sto pensando con i tempi se ci sto dentro c'è un glitch che dicono per il redeploy infinito del paracadute quindi la possibilità di aprire quante volte si vuole il deltaplano ve lo faccio vedere come vedete dovete avere un un amico un compagno di squadra andare al cimitero dei dei robot e nel momento in cui voi vi lanciate voi scendete sulla mano scende anche il vostro compagno di squadra saltate sulla mano e appena vi dice di aprire il paracadute anche il vostro compagno deve saltarci sopra in questo caso guardate che cosa succede il redeploy del paracadute è praticamente infinito una cosa davvero curiosa provate a farla perché sarebbe veramente pazzesco se non fosse ancora stato fixato perché vorrebbe praticamente dire l'immortalità in quanto se vi fanno cadere da altezze notevoli non potete morire insomma ragazzi anche per oggi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato il video news mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao